L'Officina delle Tradizioni Popolari, luogo di cultura istituito dal Libero Consorzio Comunale, ex provincia e dal Comune di Agrigento, è risultata prima in città e terza in provincia, dopo la Scala dei Turchi e il Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina, nella classifica generale del FAI tra i luoghi del cuore, ha raggiunto quasi 3.400 voti, seguita dall'area di Maddalusa e dalla biblioteca lucchesiana, un risultato importante che premia questo piccolo museo, curato e realizzato dall'Ello Casesa, dipendente dell'ente provincia regionale, che ha messo a disposizione il patrimonio del Valdagragas, d'intesa con l'amministrazione comunale e il Libero Consorzio di Agrigento. Incluso nell'ecomuseo dell'ente provincia, insieme al Giardino Botanico, alla biblioteca e all'archivio storico dell'ente, al Palazzo della Provincia, alla Scala Reale, qualche mese addietro, lo spazio espositivo a due passi dalla Porta Atenea, ha ricevuto la visita del sindaco Francesco Miccichè, che ha incoraggiato l'iniziativa che vede oggi il suo epigolo finale. Parte del successo è stato possibile grazie anche al sossegno di alcuni istituti comprensivi di Agrigento, come Agrigento Centro, Esseneto, Rita Levi Montalcini e dei rispettivi dirigenti scolastici, Brigida Lombardo, Luigi Costanza, che hanno sposato l'iniziativa adottando lo spazio. Lo spazio custodisce inoltre numerosi strumenti musicali, etnici e siciliani e della cultura dei diversi paesi del mondo ed è impreziosito da un teatrino dell'Opera dei Pupi, tradizione antichissima tramandata da generazioni. Il sindaco Miccichè ritiene importante sostenere tale iniziativa al fine di tutelare e salvaguardare il patrimonio storico-culturale della terra di Sicilia e soprattutto della tradizione popolare siciliana. Obiettivo futuro dovrà essere quello di potenziare ulteriormente lo spazio inserendo nei circuiti museali e turistici della città e consentendo alle scolaresche, dopo la pandemia, di visitare l'Officina delle Tradizioni Culturali per rivivere un pezzo di storia dell'identità storico-culturale siciliana.